se volo la pia, questa è la mia nonna aspetta anche io e Mari andate adesso state qua togliete il cappellino tagli il cappellino che dopo ve li do qui non puoi vendere i cappellini voglio ricchiare non ce l'ho detto che ce li dai i cappellini senza problemi dai chi è questo qui? vai lì ciao Miriam ci hai mancata ieri un attimo fermi fermi che squadra di disagiati che abbiamo fio dopo facciamo una foto dietro le bici dai adesso tutti assieme dovete dire rana botol oh la Giole in piedi guardate il fotografo Giole fermi qua fermi qua fermi che la pomarica mi dà 10 euro a testa anche l'Ale Ale dammi fai la foto aspetta 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 trovate bravi dietro le biciclette adesso dai facciamo tutta la no 12 12 12 12 12 mi mettete dietro la bicicletta lascio vieni qua la borraccia oggi paradiso costa la metà la prima volta 2019 pre campionato ma di chi è questo? ma di nessuno non cambiare ma della mia guarda 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 se il focus non si guarda focus guarda 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 Ricchi su diritti su Samu Vanessa dietro la bicicletta possiamo metterci i capelli non si dai capellino eh 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 via le mani su diritti adesso guardate tutti qua guardate tutti qua tutti qua guardate tutti qua guardate qua mettete il capellino mettetelo dietro che si vede il pato poi farete un balletto vedo il negotto guardate tutti l'ale guardate l'ale guardate 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 Aspetta, 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 sono brutto.